Angelo Petrone, domani la ottava di campionato in casa contro il Paludi. L'obiettivo è quello di sorpassare il Cetraro sperando che faccia un passo falso. Sì, domani è una partita molto importante per noi. Dobbiamo assolutamente vincere. Il Paludi è alla nostra portata. Quindi speriamo in un risultato positivo. Oggi è stata l'ultima giornata di allenamenti. Abbiamo fatto una settimana abbastanza tranquilla, nonostante la sconfitta di Cetraro ormai passata. Siamo concentrati su questo Paludi, una partita che si prospetta difficile perché loro comunque sono una buona squadra. Hanno 12 punti, se non erro, 4 vittorie e 3 sconfitte. Quindi è una squadra che comunque lì davanti può far male. Dobbiamo stare attenti e rimanere concentrati per tutti i 90 minuti. Su cosa vi siete concentrati soprattutto in questa settimana? Per lo più sull'aspetto tattico perché abbiamo provato alcune cose. Noi, come ho detto prima, dobbiamo scendere in campo per vincere. Poi come viene la vittoria non lo so, però l'importante è vincere domani. Grazie. 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 Grazie.